Albergo Centro, il calore dell'ospitalità L'hotel offre ambienti eleganti ed un'atmosfera accogliente e familiare. Situato nel cuore di Torre Pellice, offre paesaggi naturali e tradizioni culturali locali. L'albergo dispone di camere confortevoli e dotate di tutti i servizi, compresa la connessione internet in tutte le stanze. Il ristorante, aperto a pranzo e a cena, è un locale unico per degustare raffinate specialità gastronomiche e trascorrere momenti di relax, sorseggiando un cocktail o una birra. Offre servizio di brasserie per il dopo teatro.